buongiorno e ben ritrovati a voi tutti cari amici fan dal sottoscritto in questo video parliamo di calcio serie c girone c giornata numero 25 il posticipo del lunedì sera tra regina e ternana che ha visto confermarsi ancora una volta la regina con risultato di 1 a 0 grazie la rete di leotti al trentesimo vittoria della regina quotata bene 2 10 2 25 2 13 2 15 e gli amarando quindi di fronte al pubblico amico del granillo altri tre punti ottengono altri tre punti importanti che li portano a più otto dal bari secondo in classifica regina che settimana prossima sarà impegnata in un turno un po complicato in casa del catania che proviene da una vittoria in casa della capese per 1 a 0 mentre la ternana giocherà in casa contro la virtus franca villa undicesima a 31 punti in bot in lotta per un post al sole playoff il bari invece giocherà in casa contro il picerno che lotta per non retrocedi in sedicesima posizione a quota 26 punti con tre pareggi una sconvitta e una vittoria nelle ultime cinque gare comunque chiudiamo e ribadiamo la regina vince la sua diciottesima partita stagionata di fronte in casa al granillo contro la ternana per 1 a 0 e allunga più otto sul bari che dire forza regina speriamo che la partita contro il catania non riservi brutte sorprese alla prossima ciao 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 ciao